Buongiorno, benvenuti all'evento per le fonti TV di NPL Forum. Abbiamo una giornata densa di argomenti di cui trattare e anche di ospiti, quindi vado in velocità a presentarvi i partecipanti della prima tavola rotonda che riguarderà il nuovo mercato dei crediti. Quindi con noi c'è Vito Ruscigno, Group Head MP Monitoring e Optimization per Intesa San Paolo. Buongiorno Vito. Buongiorno. Gabriele Guggiola, Partner Deals Financial Services per TWC. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti. Gaetano Lattanzi, Head of NPL per il gruppo Deutsche Bank. Buongiorno Gaetano. Allora, buongiorno a tutti. Paolo Pellegrini, Direttore Generale di Cervet Credit Management. Buongiorno. Riccardo Marciò, responsabile della direzione NPL di Banco di Desio e dell'Abrianza. Buongiorno. E Giulio Licenza, co-founder NCBDO per Reviva. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Buongiorno Giulio. Dunque, senza urbare troppo tempo, lo scopo di questo panel, diciamo comunque è denso di partecipanti, fa un po' il punto sul mercato dei crediti e quindi sull'arrivo di questa new wave che dà il titolo alla giornata. Per cui lascerei subito la parola a Gabriele Guggiola per una breve introduzione insomma su quando è attesa questa nuova onda e quali sono più o meno le risultanze dall'osservatorio di PwC. Grazie Massimo, grazie a tutti. Allora, una breve introduzione un po' di come vediamo il mercato. Allora, è difficile fare previsioni, facciamo questa premessa, ovviamente è una situazione senza precedenti in qualche modo. Noi verso giugno dell'anno scorso, subito dopo il primo lockdown avevamo ipotizzato tra 60 e 100 miliardi in circa due anni. Abbiamo un po' aggiornato le nostre stime alla luce di quello che è stato l'andamento degli ultimi mesi e ci sentiamo più o meno di confermare questa stima, probabilmente in un intervallo intermedio. Ci sono un paio di punti interrogativi. Uno è il quando. Ovviamente noi ipotizzavamo 18-24 mesi da giugno dell'anno scorso, in realtà nel frattempo le moratorie sono state prolungate fino a giugno di quest'anno e potrebbero essere ulteriormente prolungate. Quindi bisogna vedere, uno, se verranno prolungate le moratorie e quale sarà l'atteggiamento delle banche nell'anticipare la riclassificazione UTP. E due, secondo grande questo marchio, che tipo di flussi avremo? Nel senso che ovviamente una parte di questi andranno direttamente a sofferenza, però sperabilmente la maggior parte sarà UTP e in qualche modo potranno essere gestiti. Ci aspettiamo rispetto al passato flussi ingenti di UTP di dimensioni medio piccole, quindi SME e quindi anche se vogliamo un po' più difficile da gestire. In tutto ciò vediamo tre trend, da un lato una rifocalizzazione delle banche, poi vado molto alto perché non voglio rubare poi spoilerare gli interventi di dopo, però volevo dare proprio un focus. Uno, la rifocalizzazione delle banche su anticipare la gestione di questi UTP, quindi cogliere i primi segnali di difficoltà ed essere molto anticipatori, capire cosa non facile, quali saranno going e quali going, quindi quali si potranno supportare e quali no, e dove andranno supportati, anticipare la gestione e essere molto precisi nelle strategie perché ricordiamoci che a differenza del passato oggi c'è il calendar provisioning che può imparare gli accantonamenti sulle posizioni UTP, quindi se l'UTP non viene gestito bene e poi va a sofferenza e poi bisogna ulteriormente spendere tempo per recuperare, è ovvio che questo determinerà un costo per le banche. Quindi diciamo attenzione alle banche a essere pronte a gestirle ed essere veloci nel gestirle. Mercato dei service, fortunatamente rispetto alla vecchia crisi il mercato di service ai investitori è più strutturato, c'è un ecosistema, ci sono tanti service in qualche modo pronti a gestire la nuova ondata, ci sono tanti investitori che hanno già guardato l'Italia e tanti che vogliono vedere all'Italia. Secondo me rimangono da fare due cose, i service devono creare capacità, ulteriormente aumentare la capacità produttiva sugli UTP, perché ovviamente questo è un po' il focus dei prossimi mesi e bisognerà capire gli investitori a quali asset class saranno più o meno interessati, dove vorranno investire e con che grado di rischio. L'altro trend che vediamo è quello di crearsi sul mercato di strutture alternative come i fondi di credito, le STV, le caratterizzazioni, proprio per fornire poi alle banche, investitori e service diverse modalità anche innovative di gestione degli UTP. Ci sono poi altri due fenomeni e poi qui mi chiudo e lascio poi la parola ai colleghi, due fenomeni che secondo me sono rilevanti. Uno è tutto il tema del mercato secondario, un po' spinto dal regolatore europeo che sta rivedendo le normative in questo senso. Un po' spinto dal mercato stesso perché c'è un'esigenza di gestire per esempio le code delle GAX, gestire e diciamo rimodulare i portafogli per efficientare la gestione, per rispettare i business plan e via discorrendo. Quindi c'è una forte spinta allo sviluppo di un mercato secondario e quindi anche alla standardizzazione degli scambi, ad avere transazioni sempre più frequenti, anche magari di dimensioni più ridotte e questo secondo me è un trend che andrà avanti nel prossimo futuro, soprattutto perché come abbiamo detto ovviamente i flussi nuovi saranno di posizione anche di dimensioni più ridotte. L'ultimo grande tema un po' da tenere sott'occhio è il tema delle cosiddette bad bank nazionali o europee. C'è stata e c'è tuttora una forte discussione a livello europeo, lì bisognerà capire due cose. Uno ovviamente come queste si inquadranno nella normativa sia sugli aiuti di Stato, sia sulla BRD, quindi quella normativa che regola i fallimenti bancai, sia che scope si vorrà eventualmente dare una bad bank nazionale, quindi dove, come, in che condizioni dovrà intervenire, probabilmente dove ci sono situazioni di possibili difficoltà delle banche. Questo è più o meno come vediamo, proprio a grandi linee, come vediamo il mercato nei prossimi mesi. Grazie mille. Allora, insomma, direi che c'è parecchia carne al fuoco e abbiamo fatto una carrellata, insomma, di argomenti molto interessanti. Vorrei a questo punto sentire un po' il punto di vista delle banche e quindi, diciamo, quali sono un po' le aspettative sia sul cambiamento nel modo di gestire i crediti che, diciamo, nella necessità di affrontare la fine delle moratorie. Quindi chiederei a Vito Ruscigno di portarci un po' il punto di vista appunto degli istituti di credito, tra l'altro quello di un grande istituto di credito di rilevanza sistemica e poi magari con gli altri vediamo se ci sono differenze con gli istituti, diciamo, di dimensioni differenti. Sì, Massimo, diciamo che Gabriele ha già affrontato un po' quelli che sono i temi di questo periodo, no? Quindi tema moratori, temi di evoluzione del mercato, bad bank e tema relativo al servicer. Partiamo dal mercato. Il mercato, diciamo, è in continua evoluzione, evoluzione che è determinata dal fatto che, ovviamente, il mercato italiano è il mercato tra i più maturi d'Europa, anche perché ha visto nel tempo i maggiori volumi transatti e, ahimè, per il sistema bancario italiano è anche quello con i più alti stock di NPL per le banche. Se dovessi dare un'etichetta al cambiamento del mercato, direi che il mercato da sofferenza centrico si sta spostando a UTP oriented. Questo è frutto fondamentalmente di due fattori. Da un lato, ovviamente, l'efficacia della GAX, che ha ridotto sensibilmente lo stock di sofferenze dai 200 miliardi del 2015 ai 60 miliardi della fine dell'anno scorso e quindi ha ridotto lo stock di sofferenze cedibili, ma ancora di più, come diceva prima Gabriele, gli interventi da parte del regolatore che, tramite una serie di azioni, tra cui l'ultimo, il calendar provisioning, hanno ridotto le tempistiche a disposizione delle banche per gestire i crediti deteriorati, introducendo delle precise milestone in termini di assorbimento di capitale. Quindi le banche non hanno più a disposizione un tempo, diciamo, un tempo elevato per decidere se cedere o meno un credito, ma questa scelta deve essere fatta prima che il credito vada a sofferenza. Ovviamente questo ha determinato, per rispondere anche alla domanda sulla gestione, una modifica dei criteri di selezione dei crediti più orientati verso gli UTP, ma anche una modifica della gestione. Quindi, se parliamo di UTP, parliamo di crediti deteriorati, ma devo dire che rispetto alle sofferenze i punti di differenza sono maggiori rispetto ai punti in comune. e il maggior punto di sofferenza è che nell'UTP, oltre che gestire il credito, bisogna gestire il debitore e soprattutto il business del debitore. infatti, diciamo che i servicer si devono trasformare da macchine efficienti di recupero, con un business model basato sui volumi, a quasi boutique di corporate finance, perché le competenze in termini di restructuring, competenze legali e soprattutto, come dicevi tu nell'introduzione, la capacità di apportare nuova finanza per i debitori è fondamentale per intraprendere quel percorso virtuoso di rientro in bonus, per non parlare poi, come ha detto Gabriele, del mercato secondario. Sulla moratoria, devo dire che si parla molto del cliff edge effect, cioè del picco che ci si aspetta una volta terminate le azioni governative a sostegno dell'economia, ma quello che possiamo dire, quello che hai anche anticipato tu, è che rispetto a crisi precedenti le banche sono state in grado di intervenire in modo preventivo sul mercato, solo per fare un esempio, a livello di gruppo, per mitigare l'impatto della crisi sono stati effettuati importanti interventi straordinari sul portafoglio clienti tramite la concessione di moratorie, ovviamente di nuova finanza garantita. E ti devo dire che i segnali sono incoraggianti, perché sul totale delle esposizioni a cui il gruppo ha concesso moratorie e finanza garantita, i due terzi risultano ancora in attesa della ripresa dei pagamenti e sul terzo che ha ripreso a pagare i tassi di default e i tassi di incidenza degli sconfinamenti rilevanti, nonché il downgrading della clientela è sostanzialmente in linea con le serie storiche passate e soprattutto con la parte di portafoglio che non ha beneficiato di queste azioni. Quindi diciamo che al momento i segnali sono incoraggianti. C'è anche da dire, e poi lascio la parola ai colleghi, che molto dipenderà sia dal fatto se verranno estese queste moratorie o meno, ma soprattutto dai tempi che verranno concessi ai clienti per rientrare dei finanziamenti concessi tramite le garanzie. Ottimo, grazie. Sì, a questo proposito c'è da dire che comunque, come anche avevamo menzionato in precedenza, almeno a livello di governo o come posso dire, c'è la chiara indicazione, diciamo, di non voler forzare la mano, insomma, alle imprese, quindi voglio dire, Draghi che un anno fa diceva che bisogna in qualche modo consentire l'indebitamento delle imprese e alla peggio assorbirlo, adesso ce l'abbiamo al governo, quindi insomma c'è l'auspicio che la cosa possa funzionare. Chiederei allora a Riccardo invece, visto, ho sentito un po' il punto di intesa, invece dall'osservatorio di un operatore chiaramente magari più concentrato su determinate aree geografiche e su determinate tipologie di attività, qual è insomma la percezione, con riferimento ad esempio a questo discorso delle moratorie o più in generale a questa nuova onda e allo stato dell'arte? Grazie. Allora, sperando di non essere assolutamente smentito, mi sento al momento di condividere un po' il moderato ottimismo di Vito, nel senso che anche i segnali che arrivano da noi sono segnali meno devastanti, adesso non possiamo parlare di segnali incoraggianti, ci mancherebbe altro, però meno drammatici. Effettivamente la pandemia è stata affrontata dalla clientela anche in difficoltà, comunque con serietà, in modo da cercare comunque di vedere il futuro e questo si vede, lo stiamo notando sia nel discorso della gestione delle moratorie, che anche noi ovviamente stiamo anticipando, cerchiamo di capire quale può essere l'evoluzione, sia per quanto riguarda il discorso della finanza agevolata, quindi della liquidità che è arrivata alla clientela con garanzia dello Stato. Ecco, questo è il mio problema, è la mia preoccupazione, perché se tutto va bene non abbiamo problemi, ma se effettivamente dovesse arrivare nell'ambito di un'ondata che comunque è chiaro che ci sarà, insomma piccola, grande, media, quella che sarà, ci sarà, dovesse arrivare anche una parte, una fetta di questa parte deteriorata con la garanzia dello Stato, abbiamo una novità rispetto al pregresso che è un terzo incomodo, che è appunto lo Stato. Lo Stato che si vedrà escutere le garanzie che effettivamente ha concesso laddove ovviamente sarà necessario e che avrà la possibilità di dipendere, di pagarle celermente ma poi rivalersi sui clienti, oppure di ritardare chiedendo spiegazioni come giusto che sia, ci mancherebbe nei suoi diritti e quindi ritardare magari queste escursioni ritardando anche, se vogliamo, l'introduzione di questi nuovi UTP nell'ambito di un mercato, di quello che potrebbe essere una cessione, una ristrutturazione post escursione garanzie e quant'altro. Questo è un elemento che effettivamente dobbiamo valutare ma che è difficile in questo momento da valutare perché non sappiamo quale sarà e se ci sarà un intervento dello Stato, giustamente si diceva abbiamo adesso Draghi, è probabile che potrebbe inventarsi qualcosa, potrebbe esserci l'intervento di Amco, potrebbe esserci, insomma possiamo immaginarci tante situazioni. Possiamo anche immaginarci che ciò non avvenga e quindi dovremo affrontare il problema insieme, noi e i servicer. Trovo difficile immaginare che i servicer in linea generale vadano ad acquistare crediti o vadano a gestire crediti che abbiano ancora garanzie nei confronti dello Stato perché è un rapporto Stato-Banca e quindi è meglio che venga risolto quanto meno delineato prima di un'eventuale gestione, a meno che non ci sia lo sviluppo all'interno dei servicer di alcune specializzazioni proprio nella gestione di queste garanzie. Bisogna vedere quanto sia interessante fare una cosa del genere, posto che effettivamente è una particolarità, è una cosa che voglio sperare non risuccederà in futuro, insomma per una seconda volta. Ecco questo è il vero problema. L'altro problema, l'ha accennato Vito, so che ne parlerà anche Paolo e quindi lancio la palla a lui, è il discorso proprio del mercato UTP. Il mercato UTP ce lo diciamo sempre, è un mercato completamente diverso, un mercato di clienti vivi, un mercato di clienti che devono essere spesso e volentieri aiutati, quindi nuova finanza, quindi le problematiche di far rientrare questa tipologia di crediti anche nelle GAX perché sono più difficili da gestire, più difficili da valutare, più difficili da ratare portafogli di ovviamente clienti in UTP. E per questo motivo si affrontano, almeno si sono affrontati fino adesso come, anche quando si parla di portafogli, una somma di single name, cioè è chiaro che il servicer o l'investitore quando va a vedere un UTP oggetto di possibile cessione deve capire bene qual è il sottostante, qual è appunto dove poterlo rilanciare, dove poter finanziare e quant'altro. Quindi sono due diligence complicate, molto più complicate che non una semplice due diligence liquidatoria. Tutto ciò per una banca come noi appunto si traduce in un'ulteriore perplessità legata alle PMI, perché se un portafoglio da 50 milioni viene formato da 3-4 soggetti è relativamente facile valutarlo, se un portafoglio da 50 milioni è formato da 50 soggetti è un po' più difficile. E quindi ecco che c'è uno sviluppo da parte dei service, come diceva giustamente Vito, non solo a livello manageriale, ma anche a livello di valutazione probabilmente di cluster, probabilmente di banalmente come diciamo in banca di codice Ateco, cioè di valutare il mercato e all'interno del mercato vedere le potenzialità di un gruppo di clienti che rientrano in quel mercato, quindi non singolarmente, ma attraverso un approccio più statistico sicuramente non banale, non semplice. Ottimo, grazie mille e soprattutto mi sembra, a parte diciamo poi passiamo a Paolo la domanda sulla specializzazione dei servicer, ma prendo nota anche del rilievo fatto sulla criticità di escutere delle garanzie portate dallo Stato, perché chiunque abbia un po' di esperienza, non so, dai confidi ai Medio Credito Centrale, già il tema delle garanzie è un tema e quando questo tema è avere un interlocutore insomma come lo Stato, non è esattamente diciamo la cosa più, come posso dire, interessante del mondo, anche perché chiaramente per quanto nelle democrazie avanzate dovrebbe essere così, è abbastanza evidente che non c'è un rapporto di paritario nei confronti della controparte, quindi troviamo anche un po' nello Stato. E niente, a questo punto io passerei a Gaetano per fornirci un po' il punto di vista anche di quindi un istituto di credito che oltre diciamo a operare sul mercato italiano è anche parte di un grande gruppo europeo e globale e quindi di capire un attimino con questo diciamo radicamento anche da Headquarter insomma all'estero, insomma qual è la percezione di questa nuova ondata e di cosa succederà alla fine delle moratorie. Buongiorno a tutti, grazie Massimo. Allora, io mi permetto di parlare dal mio osservatorio che è un osservatorio sovranazionale quindi diciamo darei anche degli input di natura comparatistica. Mi sentite? Sì. Allora, il grosso e qui cercherò anche di duettare un po' con Paolo perché come tutti voi sapete la mia banca in Italia ha una partner di full outsourcing management con Servet per cui diciamo la mia struttura operativa in realtà è la struttura operativa che presiede Paolo. Detto questo, concordo con Riccardo sul tema UTP, sono molto preoccupato sull'SMI, a differenza però dei colleghi ritengo che in questo momento l'Italia a differenza di altri paesi non abbia dotato le banche della cornice normativa adeguata per poter operare su questo mercato e aiutare queste piccole e medie imprese. Perché? Perché la normativa fallimentare di contorno è una normativa ancora profondamente punitiva nei confronti dei soggetti bancari qualora l'SMI vada poi a fallire. Questo è un tema molto importante, non so se i colleghi poi vogliono aggiungere qualcosa ma onestamente in alcuni casi il cuore, la testa mi dice di aiutare una determinata SMI perché i numeri quadrano, dall'altra parte il rischio di un fallimento soprattutto per l'SMI dove non c'è una normativa nazionale che invece è prevista per le grandi imprese, mi riferisco alle varie Prodi e Marzano, che possono scongiurare il fallimento. Per l'SMI che sono poi le principali imprese in termini di numeri in Italia, questo problema secondo me è un problema importante. Detto questo secondo me ci sarà quest'onda, quanto ci sarà insieme a CERBED stiamo cercando di capirlo in maniera approfondita, infatti ad ogni sospensione concessa proprio col nostro provider abbiamo e credo che anche il DESO abbia fatto qualcosa del genere abbiamo intervistato i richiedenti sospensiva per capire le motivazioni concrete della richiesta di sospensione. Questo riteniamo ci permetterà di poter allocare al meglio competenze e risorse per la gestione degli UTP. Questa crisi, la pandemia ha avuto anche degli effetti, non concentriamoci solo sugli UTP, ha avuto anche degli effetti sullo stock di MPL pendenti, mi riferisco in particolar modo alla sospensione delle procedure esecutive, alla riduzione delle aste se non per quei tribunali che erano dotati dell'asta telematica e soprattutto una riduzione dei piani di distribuzione, da lì poi anche un'aggressività congiunta da parte dei principali servicer che si ricordo bene hanno fatto fronte comune verso il Ministero di Grazia e Giustizia per ottenere sostanzialmente un'accelerazione della della ripartizione degli incassi pendenti, cosiddetti cash in court e una pressione ulteriore per chi come noi ad esempio ha nel mutuo fondiario e quindi il privilegio ex articolo 41 la sua prevalenza. Grazie per passare un po' anche all'intervento di Giulio Licenza che magari ci proietterà alcune slide, poiché abbiamo fatto un quadro secondo noi molto interessante e esaustivo delle criticità più rilevanti che concernono esattamente il mondo degli UTP, però obiettivamente non possiamo dimenticare che lo stock di sofferenze è sicuramente un elemento ancora diciamo più che rilevante da guardare e che chiaramente una delle conseguenze più immediatamente percepibili della pandemia, laddove altre questioni di moratori hanno consentito di spostare con le asti, perché sarebbero più immediati. Scusa Massimo, mi sono perso anche due punti per Riccardo poi, il primo sostanzialmente anche lui che peraltro è stato uno dei miei maestri, trova anche lui questa criticità nel contesto, nella fornice normativa per andare ad aiutare le piccole e medie imprese e dall'altra invece diciamo un po' un sassolino verso Riccardo, perché proprio quando insieme a lui su una joint venture con Lehman Brothers andavamo a comprare i crediti presso le banche e ci divertivamo a comprare proprio quelle posizioni dove avevano delle garanzie collaterali, i cosiddetti fighi fondi interbancari di garanzia, perché lì noi riuscivamo a recuperare laddove invece la banca cedente, in quel caso particolare era la BNL, queste garanzie ce le aveva a zero. Quindi questo tipo di garanzie è vero, sarebbe meglio che le escutesse la banca, però possono essere considerate come un upside interessante per l'investitore. Scusate se mi sono a Dullian Gatto. No, 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 scusami tu, anzi mi dai l'occasione invece di riorientare un po', quindi facciamo attendere un attimo a Giulio, perché prima di passare al discorso delle aste io invece farai intervenire Paolo, che in realtà anche da Riccardo era stato e a questo punto anche da Gaetano chiamato in causa più volte dai relatori precedenti e per fornirci l'ultimo tassello più o meno della filiera produttiva, che è chiaramente il punto di vista dei servicer, che quest'ondata dovranno gestire laddove c'era ancora da digerire chiaramente uno stock precedente non trascurabile e da più parti alcuni osservatori hanno rilevato che a livello di sistema sicuramente la crescita del carico di lavoro per gli operatori anche di grandi dimensioni come Cervede e come gli altri player, è probabilmente più che proporzionale rispetto a quella che è insomma un po' la struttura delle operations e questo diciamo richiede delle sfide anche in termini di processi operativi, quindi non so, diciamo ti passo diverse patate bollenti e ti lascio insomma un po' cercare di cucinarle. No, no, ma diciamo che gli spunti sono stati tantissimi, sono un po' in minoranza perché sono un service secondo verso tre spunti di tre banche, ma cerco di raccogliere quello che è emerso e dare delle risposte. Ora io penso che nel nostro ruolo la cosa più importante è essere flessibili e veloci nel rispondere alle esigenze dei nostri clienti che sono le banche e gli investitori che cambiano nel tempo, penso che parte del successo delle operazioni che facciamo con alcune banche tipo anche BHV, Deutsche Bank, è il fatto che noi sviluppiamo un modello operativo in funzione di quello che era l'esigenza al momento in cui siamo partiti con la collaborazione, ma poi se nel tempo le cose cambiano e sono cambiate in modo abbastanza pesante e se ci serve staffare un team di persone dedicata a gestire le richieste e le sospensioni verso COSAP, noi abbiamo la capacità, la flessibilità e le competenze per farlo nel momento in cui serve e gestire l'esigenza spot della banca. Quindi la capacità di essere veloci e flessibili è fondamentale. È ovvio che siamo di fronte a un momento in cui questo cambio di questa flessibilità richiede qualcosa di più, perché passare dalla gestione degli MPL all'UTP è un po' più che essere solo flessibile, vuol dire acquisire competenze e strutturarsi in un modo differente rispetto al passato. Ed è la sfida che è sul tavolo di tutti i service, poi qualcuno è più avanti, qualcuno è più indietro, ognuno la prende da un angolo differente. Giusto per farvi capire l'entità della sfida, gli UTP rispetto agli MPL sono tutta un'altra cosa, perché qua è richiesta velocità, mentre negli MPL le cose sono statiche, sono ferme, ormai sono frizzate, gli UTP sono dinamici, cambiano in sei mesi di tempo, fa la differenza sulla gestione di un'azienda. È richiesta capacità di… sono disomogenei, cioè gli MPL è un po' come la morte, allinea tutti, alla fine si guarda il sottostante per valutare il valore. L'UTP è diverso se l'azienda è un'azienda immobiliare, se è un'azienda industriale, se è la dimensione, se è un privato, quindi cambia completamente la strategia gestionale sulla base del sottostante. E poi la terza cosa, la terza sfida è che mentre, e lì colgo lo spunto di Riccardo, su poche posizioni grosse, le modalità, essere una boutique di restructuring è qualcosa che ce ne sono parecchie in giro, ma sono poco scalabili, la sfida sta nel trovare la modalità di gestire in modo industriale tutto il cluster delle PMI, che è il tessuto della nostra nazione, perché noi alla fine in termini di numerosità e di peso, tutte le aziende, tutti i 50 milioni di fatturato fanno il grosso dei portafogli sia in termini di GBV che di numerosità delle banche. Ed è proprio qui Paolo, scusami se ti interrompo, che ritengo che il quadro normativo di riferimento, c'è la normativa fallimentare, sia dessueta e punitiva per le banche. No, no, ma ci sono vincoli normativi, vincoli del calendar provisioning e necessità di trovare un modo per fare triaging e quindi identificare velocemente anche sulla base di dati e quindi non soltanto di una gestione, cioè un vecchio stile, molto sartoriale dove uno iniziava in ordine alfabetico, a guardare l'azienda che iniziava con l'A, quando arriva l'AZ non passa i 12 mesi, quindi bisogna trovare il modo di identificare e su questo abbiamo investito molto come Cerverd nel sviluppare indicatori, strumenti che sulla base delle informazioni, dei dati, delle aziende ci permette di fare questo triaging velocemente e non soltanto clusterizzare le aziende ma anche suggerire al team di gestione la strategia più adatta. Poi ovviamente servirà sempre a qualcuno che la studia, però è diverso se la studia da zero o se invece si concentra su quel cluster che magari ha maggiore possibilità di farcela dedicando le migliori risorse per andare a lavorare su quelle posizioni. Quindi questa è la sfida per i service. Noi stiamo investendo molto in questa direzione e i primi riscontri sono anche positivi in tal senso. L'ultimo elemento che però volevo mettere sul tavolo è che è talmente grossa la sfida che secondo me rispetto al passato deve cambiare anche un po' l'approccio dei service. Cioè i service devono imparare un po' a fare sistema. Cioè non penso che anche il servicer generalista possa essere in grado di fare tutto a solo. Secondo me è sempre di più necessario avere piattaforme aperte dove sei aperto alla collaborazione con o operatori di nicchia o diciamo strutture che hanno competenze che tu non hai internamente. Molte delle operazioni che stiamo portando avanti sono operazioni che stiamo magari sviluppando in una partnership a tre magari con un SGR, con un advisor tipo un fondo ad apporto che stiamo lanciando dove l'idea di poter far tutto noi è qualcosa che secondo me non allungherebbe i tempi e non porterebbe il valore sul mercato. Mentre invece fare squadra, trovare un SGR, trovare un advisor e portare sul mercato velocemente una soluzione che porta sul tavolo il meglio di diversi operatori è quello che in questo momento serve. Quindi questo è lo spunto un po' per tutto il mercato dei service dove rispetto a una competizione abbastanza accesa, dove tutti cercavano bene o male di fare tutto in casa e rubarsi il mestiere dovremo sempre di più cercare di lavorare dove possibile anche in logica di partnership e di collaborazione. E questo giusto perché il mercato dei servicer è cambiato enormemente da quando io sono entrato in questa industria nel 2015, perché facevo altro prima. Ai tempi c'erano due o tre operatori di dimensione rilevante e poi c'erano tantissime piccole società veramente sotto scala. Adesso per fortuna anche abbiamo sei operatori di dimensione rilevante, diversi operatori di dimensione media e penso che ci sarà ancora molti movimenti, perché non è un segreto, io penso che al di là di Amco che ha una sua genesi, un suo DNA particolare e forse di Doveglio che comunque non ha l'esigenza di crescere perché è già una dimensione rilevante, tutti gli altri operatori da Prelius, Noi, Intrum, Credito Fondiario e quelli sotto saranno oggetto, ma si legge sulla stampa, di un risico, perché comunque il consolidamento del mercato secondo me è un po' scritto nelle stelle e sarà un altro dei temi che ci vedrà coinvolti nei prossimi anni, anche per poter comunque ridurre quella scala che possa permettere poi al mercato dei servizi di portare le risposte che servono al sistema bancario. Sì, peraltro osserviamo che comunque negli ultimi anni, anche su diverse scale dimensionali, l'attività di Merger and Acquisition per le società di Special Saving è stata estremamente diciamo vivace e ha coinvolto sia l'ingresso di operatori stranieri che hanno acquisito piattaforme italiane, sia piattaforme italiane che sono episodi di consolidamento come vediamo a FBS e in IFIS, insomma, quindi diciamo sicuramente il mercato è vivace e ne vedremo delle cose. Prima di lasciare la parola a Giulio per diciamo farci un po' il punto sulle Massimo, scusa, anche su questo punto c'è stato anche un consolidamento anche particolare nel senso che ci sono nate diverse piattaforme, abbiamo qui Cerved ma anche Intrum ha fatto la stessa cosa, anche Credito Fondiario che sono una joint venture tra l'originator e il servicer. Mi riferisco ovviamente a Intrum Italia, mi riferisco a quello che Cerved ha fatto più volte e non ultimo con la Creval o con noi e mi riferisco. Esattamente e quindi questo un po' perché probabilmente la banca ha ancora una gamba dentro, la vuole tenere per capire se queste piattaforme poi in un eventuale consolidamento possono incrementare il valore dello stake. Dall'altra parte una chiusura anche sugli UTP, credo che sia importante questo tipo di piattaforme perché si portano a casa del personale bancario. Parlavo l'altro giorno con Riccardo come secondo noi nella gestione degli UTP il famoso settorista o il direttore di banca molto esperto sia qualcosa più vicino alla gestione degli UTP come competenze che non ha anche il bravo gestore degli NPL. Questo però è il secondo rimbalzo che lancio a Riccardo e Serifio. Assolutamente sì, tra l'altro a beneficio di chi le sta seguendo in streaming, nel corso della giornata, visto che Gaetano aveva fatto riferimento alla crisi di impresa, avremo appositamente nella tavola rotonda successiva anche un focus da un punto di vista legale e regolamentare su quella che era il percorso di introduzione del codice della crisi di impresa all'interno del sistema italiano che è anche quello slittato a causa della pandemia e lo vedremo in dettaglio nella prossima tavola. Adesso chiederei invece a Giulio di farci un po' il punto su quello che è stato l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle aste giudiziarie per chiudere un attimino un po' il quadro su quello che è, insomma, passando dai nuovi flussi, la gestione delle banche, il ruolo dei servicer a quello che è un po' il tessuto istituzionale perché tutti sappiamo che chiaramente un sistema giudiziario che funziona o che è sufficientemente veloce è la chiave per poi sia per quanto riguarda il recupero giudiziale delle esposizioni non performing, ma è comunque un tema di riferimento che rileva anche nella gestione delle esposizioni ancora vive. Prego Giulio, grazie. Grazie Massimo, grazie a tutti, grazie per l'invito. Appunto sì, a chiusura un po' della panoramica che abbiamo visto, quindi a partire dal mercato, dalle cessioni, dal quadro regolamentare al servicing, alla parte che poi è direttamente sul campo del recupero, che è quello un po' di cui ci occupiamo noi. Per rispondere un po' alla tua domanda, per fare un quadro su quello che è, sono i recuperi tramite le asse giudiziarie, che è dove viene il 90% dei recuperi dei crediti di Secure. Ho preparato qualche slide che cercherò di presentare qualche dato nel modo più dinamico e più rapido possibile. Allora condivido lo schermo. Eccoci qua, ditemi se vedete. Io vedo, perfetto, ottimo. Ottimo, quindi abbiamo preparato qualche slide con i dati delle asse immobiliari del 2020 e abbiamo visto anche come è iniziato il 2021. Prima però volevo fare un passo indietro. Per chi magari non mi conosce, io sono Giulio Licenza e sono cofondatore di Reviva, che è la start-up specializzata nella vivacizzazione delle asse. In sostanza aiutiamo servicer, banchi, ampi all'investor ad aumentare il recupero dei crediti Secured tramite la migliore vendita degli asse in asse. Ci serviamo di modelli previsionali con machine learning, intelligenza artificiale che ci permettono di prevedere le aste, analisi di big data e marketing. Brevemente, l'obiettivo di questo intervento qual è? Presentare quindi i dati delle asse del 2020 in qualche punto rapido, come è iniziato l'anno nel 2021 e trarre insieme qualche conclusione, magari. Come mai noi? Perché come start-up abbiamo sviluppato un software che ci permette di estrarre i dati dal portale delle vendite pubbliche, che è dove per forza deve confluire ogni asta pubblicizzata. In questo modo riusciamo ad estrarre i dati, pulirli ed analizzarli, essere sicuri di avere tutti i dati delle aste poste in vendita. Iniziando da lotti e aste. Per lotti si intende la singola unità immobiliare posta in vendita, mentre per aste intendiamo gli esperimenti di vendita, quindi quante volte è stata posta in vendita nel corso dell'anno. Abbiamo visto che gli immobili nel corso del 2020 sono stati 95 mila per 117 mila aste, che se lo paragoniamo al 2019 abbiamo una riduzione degli esperimenti di vendita del 54 per cento. Dato significativo e possiamo vedere, possiamo vedere andando a fare uno spaccato mese su mese, capire meglio che cosa è successo. In sostanza i primi mesi del 2020 hanno cominciato anche bene, con un aumento del 15 per cento delle aste pistate rispetto al 2019, che lo vedete qui in blu. Poi come sappiamo bene da marzo, con lo scoppio della pandemia, si è bloccato tutto, quindi c'è stata la chiusura totale dei tribunali e poi la ripresa in ordine sparso. Da settembre, ottobre in poi c'è stata insomma una mezza ripresa. Quindi le provvedimenti che abbiamo visto sono stati a sospensione delle aste, quelle che ricadevano all'interno del lockdown e progressiva ripresa in base al tribunale, sospensione delle procedure prima casa, che è quello che ha menzionato anche Gaetano prima, e la sospensione della liberazione degli immobili che colpisce non solo gli immobili venduti in asta, ma di tutto il libero mercato. Le aste fissate nel 2020 erano 162 mila, di cui però 44 mila e 700 sono state sospese perché ricadevano nel lockdown immediatamente dopo e quindi non sono state potute celebrare le aste o banalmente i sopralluoghi o tutti gli addempimenti necessari. Quindi quelle poi celebrate effettivamente sono state 117 mila. Il valore offerto complessivo di queste aste era di 21 billion, poi di quelle celebrate effettivamente era di 15,3. Quindi solo grazie al lockdown sono persi 6,6 billion di valore economico di immobili offerti. Un altro dato interessante da osservare nel 2020, come sempre aveva citato Gaetano prima, è la modalità di vendita. La variazione rispetto al 2019 è stata una tendenza di più aste telematiche, appunto per evitare che si presentassero persone presso le aule e anche per favorire la partecipazione da remoto. Nel 2020 ci siamo abituati un po' tutti a lavorare da remoto, piuttosto anche acquistare o vendere. È cambiato un po' il processo dall'abitudine di acquistare fisicamente o vendere fisicamente prodotti e servizi a farli in maniera remota. Parimenti se possiamo dire l'ha fatto anche il tribunale, quindi proponendo più aste telematiche. La variazione è stata 22% in meno in rapporto percentuale delle aste presso il venditore, quindi la classica modalità analogica cartacea, in favore di un aumento di quelle miste, quindi telematiche e presso il venditore o puramente telematiche. Questo per dire che anche il tribunale in un certo senso e gli organi delegati alla vendita si sono attrezzati per vendere un po' da remoto, un po' da fare da e-commerce, passatemi il termine. Il 2021. Allora, come abbiamo iniziato l'anno? Tieni di coordinare. Scusa Giulio, sono Gaetano. Vai Gaetano. Secondo me è un aspetto che manca qui, ma che solo Paolo o gli altri colleghi delle banche ci possono dare, è che l'effetto indiretto di questo crollo delle aste ha comportato, almeno per quanto ci riguarda. Ovviamente l'ingessamento della nostra struttura di Reoco e tutto il team di vivacizzazione aste, ma soprattutto dall'altra una riduzione dei DPO, che sono ovviamente frutto spesso della pressione esercitata tramite l'azione esecutiva. Assolutamente, assolutamente. Concordo con te. Tornando a come è iniziato il 2021. Allora, siamo reduci dall'ultimo trimestre del 2020 con un trend molto positivo. Avevamo stimato all'inizio che gli immobili oggetto di sostensione, quindi classificati come prima casa, fossero fino al 36% degli immobili di totale in vendita, quindi oscillavano fra 25 e 36. Abbiamo visto verso fine anno, diciamo, migliorare le nostre stime, dove lo scostamento dalla normalità era dal 30 al meno 18% a dicembre. Quindi quello che ci aspettavamo all'inizio dell'anno era un trend che proseguiva in questa direzione, quindi poter dal meno 18 al meno 14 a tendere, diciamo, sempre più vicino possibile alla normalità. Quello che abbiamo osservato invece è stato molto diverso, ovvero a gennaio abbiamo iniziato l'anno con il freno a mano tirato. C'è stato di nuovo un crollo delle aste, meno quasi 40% e con una debole ricrescita fino ad arrivare almeno 27. In sostanza, guardando i risultati del primo quarter, dalle 65 mila questo quarter del 2020 ce ne sono state 44 mila. Una riduzione del 31, 20.500 aste perde. In sostanza di tre mesi se ne è lavorato uno in meno. Quali sono le cause? Allora, sospensione delle procedure prima casa sicuramente ne ha fatto parte anche se era presente anche al termine del 2020. Quello che riteniamo possono essere le cause anche in efficienza del sistema giustizia che alla fine dell'anno del 2020 si sono trovati semplicemente a rifissare le vendite che erano state sospese nel periodo del lockdown o comunque in attività dei tribunali. Quindi le udienze erano già state fatte e c'era solo da fissare una nuova vendita. Calato tutte le nuove udienze, cessato tutte le aste rifissate, c'era da fare nuove udienze di fronte a corti che non si sono mai realmente attrezzate a lavorare da remoto, si sono trovati un sacco di arretrati di nuove udienze da fissare e questo non è avvenuto. Quindi abbiamo avuto un nuovo crollo e un nuovo assestamento verso i parametri che abbiamo ipotizzato all'inizio. Se andiamo a vedere i valori anche delle aste pubblicate, il valore complessivo dell'offerta minima, abbiamo un risultato analogo. Quindi se guardiamo il risultato del quarter rispetto al 2020 che erano state pubblicate aste per 8,6 billion, in questo quarter è stato di 5,9. Quindi ci siamo persi 2,8 billion di offerta di immobili. Andando in conclusione, mi avvio alla conclusione dicendo che il calo, abbiamo visto in primo luogo un calo delle aste fissate, quindi il primo quarter è stato un 31% in meno rispetto al 2020, parimenti anche dell'offerta minima, 2,8 billion in meno. Cosa più significativa, un calo delle partecipazioni. Quindi quello che stiamo osservando noi è che ha influito la sospensione della liberazione degli immobili, che ovviamente partecipare a un'asta per aggiudicarsi un bene senza sapere quando effettivamente l'entrata in possesso è una variabile che il mercato ne tiene conto e sicuramente sta impattando in maniera molto significativa. Secondo, vittime anche un po' della recessione economica che stiamo vivendo e dell'incertezza del lavoro. Terzo, difficoltà ad ottenere i sopralluoghi perché anche lato dei legati alle vendite custodia non c'è stato un vero adattamento alle mutate condizioni. Cosa prevediamo per il corso del 2021? Uno scenario migliore, 30 di giugno, la chiusura delle sospensioni e quindi tendere di nuovo alla normalità che ci auguriamo possa riprendere a questo settembre. Nel peggiore degli scenari invece ci saranno ulteriori proroghe e diciamo la discriminante che ci fa percorrere lo scenario migliore o peggiore è data sostanzialmente dall'andamento della pandemia della campagna vaccinale che ci auguriamo che possa proseguire al meglio più velocemente. Come operatori del settore le sfide che stiamo affrontando, diciamo, l'essere umano si distingue per riuscire ad affrontare queste mutate condizioni, questi ostacoli delle sfide che ci consentono di innovare. Quello che possiamo dire che stiamo vivendo noi come operatori in prima fila è quello che sono due i punti. La prima è quella di abbattere le barriere che ci sono nell'acquisto degli immobili in asta rispetto all'acquisto degli immobili nel libromercato. Un primo passo è stato fatto in termini di digitalizzazione che questa pandemia ci ha costretto tutti quanti a digitalizzarci, ad affettarci, a lavorare da remoto, a spingerci in quella direzione e sempre di più stiamo vedendo che questi canali funzionano nel promuovere gli immobili. Se una volta c'era sempre bisogno di fare dei sopralluoghi fisici, di avere contatto fisico con le persone per acquistare. Adesso abbiamo visto sempre di più che anche da remoto si è tornati ad acquistare gli immobili anche senza avere magari dei sopralluoghi fisici. Quindi acquistare, come si chiamava una volta, su carta, come si faceva ai costruttori, complice anche i valori più favorevoli che si trovano degli asset in alta. Ultimo punto, sono significativi e portano tanti risultati gli investimenti in marketing, cosa che secondo me c'è da fare un po' di sensibilizzazione nel mercato del servicing e di tutti gli operatori del settore, del marketing e di quanti risultati effettivamente può portare. Se pensiamo soprattutto che il mercato immobiliare in Italia pesa circa mezzo miliardo di transazioni e residenziale verso 50-60 mila giudicazioni residenziali, quindi 10 a 1. Questo significa che è un effetto leva potentissimo. Trascinare soltanto il 2% di acquirenti dal libero mercato al mercato delle atti significa un aumento del 20% e questo ci fa in un solo modo e qual è? È il marketing. Questo per concludere insomma un po' il mio intervento, se poi qualcuno volesse avere questi dati li trova nel nostro sito Scenario Arte o diversamente insomma qua ci sono i miei contatti. Passo la parola di nuovo ai colleghi che ho sentito la voce. Grazie Giulio. Allora ragazzi purtroppo siamo fuori tempo massimo e quindi io chiederei giusto un minuto conclusivo per ritirare un po' le fila e poi riprendere il corso della giornata. Andrei su Riccardo che era stato un po' chiamato in causa dagli altri. Vai Riccardo. Guarda faccio veramente il telegrafo. Allora rispondo direttamente a Gaetano sulle tre cose ma veramente con due parole. Primo codice della crisi di impresa e sistema punitivo italiano. Non esiste un sistema punitivo italiano o un sistema migliore finché la giustizia va a questa velocità. Io nel 2019, sembra un'era geologica fa, ho avuto la possibilità di confrontarmi con alcuni giudici che hanno disquisito per alcune ore davanti a me sulla differenza tra insolvenza e temporanea difficoltà. Alla fine di quella discussione mi limitai a leggere, a tradurre la nuova definizione di default. Tre parole e rimasero in silenzio. Quindi noi dobbiamo gestirci le questioni da soli, indipendentemente da quella che è la normativa, perché la normativa italiana si applica nei decenni, noi dobbiamo decidere nei mesi. Il secondo, garanzie di Stato, opportunità per i servicer, sicuramente. Però è vero, Gaetano, ricordiamoci tutti che lo Stato farà molta difficoltà questa volta, perché se avesse avuto la possibilità di pagare immediatamente lo avrebbe fatto. Se ha utilizzato le banche lo ha fatto semplicemente perché non aveva la disponibilità della liquidità. E se non ce l'aveva all'epoca non è detto che ce l'abbia quando andremo a discutere le garanzie. E quindi mi aspetto che ogni tipo di eccezione verrà effettuata. Il service si troverebbe completamente spuntato, perché non sa di che eccezione stiamo parlando, perché sono eccezioni che farebbe alla banca in serie di erogazioni. Terza e ultima cosa, il settorista bancario è meglio di un gestore nel recupero crediti? Beh, nessuno me ne voglia. Io ho fatto per 20 anni o quasi il recupero crediti. È la stessa differenza che c'è tra un vecchino e un medico di un pronto soccorso. Sono due cose completamente diverse. È chiaro che la gestione di un cliente vivo non può essere che fatta nel migliore dei modi da chi lavora in banca o ha lavorato in banca o ha esperienza di banca. Tutto questo. Grazie Riccardo. Vito? Guarda, velocemente, secondo me bisogna accelerare un po' con la campagna di vaccinazione per vedere la luce in forno al tunnel e quindi avere un termine delle moratorie che provochi minori effetti sull'economia. Solo ripartendo con l'attività economica ci potrà essere maggiore entrate per lo Stato, quindi maggiore disponibilità liquide per eventualmente supportare le imprese e soprattutto, come tu hai citato molte volte Draghi, il debito non è qualcosa di cattivo di per sé, ma il debito deve essere sostenibile e produttivo. Quindi anche tutto il debito creato in questo periodo, se diventerà sostenibile e produttivo, potrà essere una leva per le imprese italiane. Ottimo. Gabriele? E' grafico. Se dovessi dire tre segnali da tenere sottocchi nei prossimi mesi per capire l'andamento. Uno, l'incremento dei foreborn, adesso che le moratorie in qualche modo devono essere trattate diversamente dal punto di vista classificatorio. Due, l'incremento degli UTP, vuoi per questioni classificatorie delle banche, vuoi perché proprio si manifesteranno le difficoltà. E tre, capire sul mercato, quando avranno le prime operazioni straordinarie relative a questi portafogli e le iniziative, vuoi degli operatori specializzati che già ci sono, vuoi di nuovi, che portavano in Italia sul mercato italiano. Ottimo. Grazie mille. Paolo? Ma io sono un commento. Secondo me, diciamo, bisogna sempre aspettarsi il meglio e prepararsi per il peggio. Per cui lo spunto che do è se c'è spazio nei prossimi mesi per iniziare comunque a lavorare, per preparare le soluzioni, meglio farlo e poi magari non utilizzarle che invece aspettare che sia manifesto il problema. Per cui... Ottimo. Grazie, Gaetano. Grazie mille. Ma io, più che dirvi che Dio ci aiuti, ci vediamo alla prossima volta. Grande. Giulio, se vuoi dire un 30 secondi finale che siamo fuori tempo? Assolutamente, grazie Massimo. Allora, volevo dire che c'è area di cambiamento. Cambiamento sia del quadro normativo, secondo me, perché sappiamo che per l'accesso al recovery plan c'è bisogno della riforma della giustizia. Credo che coinvolgerà anche i processi di recupero, anzi ne sono convinto perché abbiamo preso parte a un tavolo di studio commissionato da Ministero della Giustizia e Commissione Europea per discutere su come si potrebbe migliorare i processi di recupero. Altro cambiamento, lo vedo invece dai player di mercato, penso che competenze real estate, per quanto mi concerne Credit Secure, competenze real estate, abilità di marketing e tecnologia, sono i tre punti dove investire per riuscire a ai vari volumi, anche in vista di un nuovo risico e al centramento, e riuscire ad efficientare quelli che sono i processi e i cavi. Perfetto. Ringrazio tutti i partecipanti a questo primo panel e lascerei la parola quindi alla tavola successiva per quanto concerne il resto della giornata su PLNTP Forum. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Grazie.